Siamo tutti pronti in questo nuovo video che giriamo per la seconda volta perché l'altro si è cancellato Si E' scomparso E' normale, bisogna il GineMaster No perchè abbiamo cercato di fare un intro per il video Prima di mostrarvi questo bellissimo lunghissimo video che vedrete tra poco Lunghissimo cosa è tanto lungo Allora facciamo un intro a posto di mettere solo una foto con le scritte così non potete leggere Vedrete che siamo bellissime Sì sì siamo stupende Stuprofacenti, tutto con i capelli bicolor Stuprofacenti Stuprofacenti Allora siamo qui appunto riuniti per farvi vedere come abbiamo festeggiato i nostri 27 mesi Per chi non l'avesse capito erano due anni e tre mesi, solo Betta l'ha capito grazie Betta Siamo Betta Siamo Betta Sì 27 mesi perchè un anno è composto 12 mesi, due anni sono 24 mesi più 3 mesi sono 27 Per chi ha ancora delle patologie mentali sono due anni e tre mesi Fanno scrivere due anni e tre mesi e due mesi sono 27 mesi Mi stavo pure confondendo Sì vabbè grazie per chi ci ha fatto gli auguri per i sette mesi non so che li ha tirati fuori Ma grazie Mi ricordo se era Storni o se è stato AirKillerGamer forse è stato Kevin Comunque grazie lo stesso Forse grazie a tutti per gli auguri che ci avete fatto Grazie Grazie anche per la persona che mi ha chiesto Ah ma state insieme? Sì Buongiorno Sì Ma chi l'ha chiesto? Non lo so non lo conosco Comunque Ma non vedete i video? Mi hanno chiesto anche su Tell Tell ce l'ho Mi sono scaricata a Tell tra l'altro Andatemi a cercare In senso 93 mi ha fatto le domande in anonimo Uno ha visto il mio Instagram e mi fa Sei fidanzata? No bacio un po' con le persone per divertimento Non ho finito nei video o su Instagram No Comunque Come mi hanno festeggiato il nostro meseversario Perché appunto in sette mesi erano Allora Montigliano Ma voi festeggiatemi il meseversario Sì Sì E' una scusa per uscire Non lo mettere fuori Farci a volte dei regalini Anche così Giusto Comunque Siamo avanti da Fuji Yamanitsu Che Ci siamo già andati di volte A quel ristorante con il robottino Che vedrete Perché il robottino ancora è il suo amante Sì Luigi Non sono andato così Comunque Comunque hanno cambiato un pochettino Alla gestione C'era la gestione Alla L'organizzazione del ristorante Per il fatto del problema Che abbiamo adesso Per non dire Che poi c'è una gente dice la parola covid Sì covid non fa meglio L'importanza è che Non lo scrivi Però comunque Per il problema del covid Questo virus E' gestito benissimo Lo ripeto Gestito fantasticamente Abbiamo avuto appunto Sempre il tavolino Quello con le poltrone Anche se il tavolo Un po' Un po' distanziato secondo me Però Magari ha fatto quelle balene Comunque Va benissimo E' comodissime Mi sbacco anche nel divanetto Hanno cambiato un pochettino il menù Sarà stata Semana di giovedì Noi hanno Sa quanto sarà Allora Diciamo che A posto di due ostri Che avevo avuto l'altra volta Un ostri A testa Però per il resto Devo dire che il pesce è sempre freschissimo Tutto buono Mi ho mangiato una marea di cozze E non siamo morti di epatite Quindi Beh Abbiamo presi quattro Ma lui ha detto No amore Per niente c'è uno Come bici Tanto io non le mangio le cose Era buona Era buona Era buona No veramente Allora Tutti dicono Sempre questo serotipo Che se mangi orientale Giapponese Muori Ti viene la Qualche problema Disistratato No 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 Disistratato vado difficile Però nel senso Per alcuni piatti Che se tu non bevi Muori disistratato No Nei tipi disistrati Però Allora Non c'è venuto nessuna epatite Nessuna salmonella Ne niente Non dipende tanto dal ristorante Ma da come conservano il pesce E' bello Sono noti del pesce Io il pesce è buonissimo Molto 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 saporito Poi ci faremo una recensione a parte Non siamo qua a cincischiare Se no il video da te che durava 2 minuti che dura 20 Attendo I tuoi I tuoi video Durano sempre Ho capito ma voi li fatti durare una vita Eh come so Non Vedranno ancora le mie estate Che non so quanto dura Comunque si è la fine di uscire a girare il video Ci saranno tanti che usciranno Comunque Allora Mi ho messaggiato appunto Foggio a Manizzo E niente Abbiamo occupato un po' il menù Diciamo che Non ci è piaciuta tanto quanto L'altra volta La tartare Con mango Non ci piace Non ci piace La salsa al mango purtroppo Distrugge l'essenza del salmone Distrugge tutto Distrugge Non è che distrugge Essendo molto dolce copre proprio il gusto E quindi non Mi tornava anche su Mica pecca E a parte il Il turbino fuori Ci stanno quando ci vediamo che passa più tutto Comunque La salsa al mango dappertutto Distrugge tutto Comunque Questa notte Andremo Gli direi un massimo di non metterla Per il resto tutto buono Avevano paura di aver finito le cose Ma non c'erano Forse hanno chiesto le ostriche Secondo me Per quello ce le davano una testa Può essere Ma anche perché c'era tanta gente Secondo me Tutto il resto sempre buonissimo E tutto adesso vi facciamo poi vedere appunto Tutto ciò Vedrete Vedrete I video Foto che abbiamo fatto E per chi è pignolo Sì Io faccio i video log I video con le foto E con i video insieme Perché mi piace così Poi Se si fa solo con i video Si fa solo con le foto Se vi piace a voi così Lo faccio così Io lo faccio così Con cani annessi Io metto video in diretta Video di prima Foto Git Tiktok Ci metto tutto insieme Perché mi piace montare così i video Alla cazzo di cane Alla cavolo di cane È giusto È giusto Il canale è mio E faccio video come voglio io Giusto Ma non è che li monto perché Butto così a muzzo Mi piace montarli così Un po' con i video Un po' con le foto È il mio modo di montare le cose Pochi si chiamano video montaggio Video log O come abbiamo festeggiato Il nostro Mesiversario Sono fatti vie Ecco E niente vi lasciamo la visione di Buona Gostosa di questi Ci saranno video E foto Per là Guardate attentamente Quello che abbiamo mangiato Mi raccomando Se è arrivata la fine del video Mettete hashtag E' l'ultimo piatto che vedrete Se non sapete il nome del piatto Mettete hashtag Piatto non so come si chiama Bell' hashtag ve lo lungo Sì Oppure piatto Oppure x Piatto Ma penso che lo Tante persone che ci stanno guardando Piace il sushi Sì Ma non saprò se sapranno che cos'è Se mai Iscrivete Hashtag peshe crudo Peshe crudo E quello è Però un nome specifico Non so se la gente ci riuscirà a capire che cos'è Noi mi lasciamo il mistero Un saluto a tutti Ci vediamo Ah! Nel suo video che uscirà il stesso giorno che uscirà il mio Quindi se state vedendo questo video andate anche nel suo Che trovate sotto in descrizione Se mi ricorderò di metterlo Sennò sarà sotto nei commenti e nel post Che sicuramente sarà molto simile Con quelle che le cose che abbiamo mangiato Noi vi salutiamo e ci vediamo nel prossimo video Ciao! 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 Ciaovalida Ciao! bello casa ciao Bene Ciao 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 ino ciao wow ciao 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 E questo è misso? Sì, un piatto... Beh, è un piatto... Eh, lo so, il mare è il mio cuore... ...e un minuto, il mio cuore è il piatto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.